Il Milan è a caccia di un nuovo attaccante e, secondo quanto riportato, potrebbe aver individuato un profilo di suo gradimento ai mondiali. Miei tifosi del Milan, se non volete perdervi nessuna notizia del Milan in prima persona iscrivetevi subito a questo canale, perché siamo sempre alla ricerca delle ultime notizie del Milan e qui sarete sempre al corrente di tutto ciò che riguarda il Milan. Ricorda che il reparto d'attacco ha avuto problemi finora in questa stagione, in particolare nel settore dei centravanti, dato che a Olivier Giraud è stato chiesto di fare gli straordinari perché Divo Corigi è alle prese con problemi di forma e Zlatan Ibrahimovic è ancora fuori gioco. C'è un nome che ha attirato l'attenzione dei dirigenti della Coppa del Mondo del Qatar, Andrei Kramaric. Il 31enne gioca attualmente nell'Offenheim, club in cui ha segnato 15 gol in campionato nella sua prima campagna, 2-0-1-6 trattino 17, 13 in quella successiva, 17 nel 2-0. 0-0-1-8 trattino 19, 12 nel 2-0-1-9 trattino 20 e 20 nel 2-0-2-0 trattino 21, con 15 reti nella scorsa stagione, 6G, 9A. Lasciate già il vostro like su questo video perché è molto importante per non perdervi le ultime notizie sul Milan, che pubblichiamo qui. Grazie! Nelle ultime finestre di mercato è stato accostato al Milan perché il suo contratto era in scadenza al termine, della stagione in corso, ma ha rinnovato fino al 2025. Il Mondiale è una vetrina e con due gol in due partite. Il nome di Kramaric potrebbe tornare a essere un obiettivo concreto di riferimento per il Milan. Di certo non sarebbe un affare a basso costo come lo sarebbe stato l'anno scorso, ma dato che ha superato i 30 anni non sarebbe nemmeno un acquisto di grande valore. Tifosi del Milan, secondo voi vorreste vedere Andrei Kramaric come rinforzatore dei Leoni oppure no? Qual è la sua opinione? Scrivetelo nei commenti, perché è molto importante per il nostro rosoneiro team. Restate sintonizzati, vi aggiornerò in qualsiasi momento con le ultime notizie da Milano. Tradotto con www.dpelle.com.br Translator, versione gratuita.